signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale in questa terza stagione come promesso cominciamo a trattare gli argomenti più succosi dell'arte del master di cosa voglia dire creare contenuti per il gioco di ruolo durante l'estate ho pensato molto a come fare per rendere l'intero argomento abbastanza approfondito da essere interessante da essere utile ma anche sufficientemente semplice da non confondere continuare a essere comprensibile anche per il vero neofita che si sta approcciando solo adesso al gioco di ruolo alla fine mi sono risolto a fare le cose partendo dalle basi che è sempre la cosa migliore questa settimana quindi andremo a vedere i termini tecnici perché sono importanti e quali sono i principali termini tecnici da sapere per approcciarsi al gioco di ruolo soprattutto al punto di vista del master e della scrittura delle quest iniziamo con una premessa i termini tecnici sono importanti spesso chi usa dei tecnicismi quando parla viene mal visto e si sente spesso dire a bisognerebbe parlare come si mangia o altre espressioni del genere in realtà questo è un atteggiamento del tutto scorretto i termini tecnici esistono appunto per rendere più chiari i concetti e più veloce la discussione al lavoro o a scuola con i vostri colleghi voi parlate usando termini tecnici non rispiegate le cose da capo usate termini specifici che intendono concetti specifici ma anche il mondo dell'arte è pieno di termini tecnici il mondo dei videogiochi è pieno di termini tecnici due pro gamer di un determinato gioco che discutono tra loro avranno così tanti termini specialistici nel loro discorso che probabilmente sarà impenetrabile a chi non conosce in maniera approfondita quel gioco anche semplicemente questo video di youtube utilizza dei termini tecnici di youtube a fine video io vi dirò di se volete ricevere notifiche schiacciate sulla campanella questi sono termini tecnici se io dicessi se volete che vi venga notificato un messaggio autogenerato al sito di youtube in risposta alla resa di pubblico accesso di un filmato su questo canale dovete schiacciare con un clic sinistro del mouse sull'icona a forma di campana posta nella parte bassa della barra del video questo non sarebbe termini tecnici ma probabilmente sarebbe ancora meno comprensibile il mondo dei giochi di ruolo ovviamente non fa differenza quindi vediamo di fare una breve lista sicuramente non esaustiva di quali saranno i termini principali che è meglio definire e come verranno usati all'interno dei video di questa nuova stagione del canale cominciamo da gruppo di gioco chiamato molto spesso semplicemente il tavolo il tavolo comprende tutte le persone che partecipano al gioco in maniera indiscriminata quando si parla del tavolo ci si riferisce a chiunque in un modo o nell'altro influenzi la giocata che sta venendo messa in atto se il gioco lo prevede il tavolo è retto da un arbitro chiamato anche il regista o semplicemente il master il master ha più o meno compiti diversi rispetto agli altri giocatori in base al tipo di gioco in linea generale però il master è quel giocatore discriminato a fare da referente per le regole e assicurarsi che la narrazione sia il più fluida possibile gli altri partecipanti al tavolo che hanno effettivamente un ruolo attivo sono i giocatori alcuni gruppi hanno anche altri tipi di figure alcuni master hanno un co master che gli aiuta magari in giochi in cui bisogna usare tabelloni o spostare pedine alcuni giochi prevedono anche delle discriminatori tra giocatori e altri giocatori sui compiti sui livelli va al di là dello scopo di questo video limitiamoci a dire che il tavolo è formato dall'insieme dei giocatori e uno di questi giocatori è il master all'interno del gioco invece gli agenti attivi sono normalmente detti personaggi se questi personaggi sono controllati dai giocatori sono detti pg o personaggi giocanti se questi personaggi sono controllati dal master sono detti png personaggi non giocanti l'insieme dei personaggi giocanti è normalmente chiamato il party a volte è possibile che ai personaggi giocanti ci si riferisca anche come gli avventurieri questo tecnicamente in alcuni casi sarebbe scorretto perché non tutti i giochi di ruolo sono di avventura però nella maggior parte dei casi può essere usato come sinonimo anche se tutto questo può sembrare banale fate sempre molta attenzione al fatto che personaggio e giocatore non sono sinonimi come non sono sinonimi il tavolo e il party anche se sono i giocatori a controllare i personaggi deve sempre esistere una separazione netta tra le due cose questo è un argomento talmente vasto che ci dedicherò poi un video specificatamente ho promesso a stefano rondelli di farlo alla fine della scorsa stagione per ora però ricordatevi che personaggio e giocatore non devono essere usati come sinonimi e quando ci si riferisce al personaggio non ci si sta riferendo anche al proprio giocatore e viceversa quando si parla della narrazione vera e propria la prima cosa a definire è l'arco narrativo l'arco narrativo è una storia che ha un inizio e una fine normalmente ogni arco narrativo o semplicemente arco è caratterizzato da un suo tema cioè l'argomento di cui si parla all'interno nella storia l'arco narrativo principale all'interno di un gioco di ruolo è detto campagna la campagna normalmente inizia con la presentazione dei personaggi e finisce con la loro vittoria o sconfitta finale alla fine dell'intera storia una campagna è divisa in archi narrativi minori detti quest o in italiano imprese ogni quest ha un suo arco narrativo un inizio e una fine e un tema distinto normalmente questi temi e gli archi stessi sono molto più specifici oltre che molto più brevi rispetto all'arco e l'intera campagna se la campagna ad esempio tratta di far prevalere la libertà sulla tirannia impedendo al malvagio barone di conquistare il regno l'arco narrativo e una singola quest potrebbe essere impedire ai sabotatori del malvagio barone di far saltare a per aria quel ponte ogni quest è formata da una serie di incontri momenti specifici all'interno della storia in cui ai personaggi è richiesto di fare qualcosa di attivo che vada a influenzare il resto della narrazione per impedire che i sabotatori facciano saltare per aria il ponte gli avventurieri dovranno superare tre incontri uno in cui sorvegliano la zona uno in cui parlano con i soldati alla guarnigione per chiedergli se c'è qualcosa di strano e uno in cui affrontano in combattimento i sabotatori e li sconfiggono queste però sono le divisioni che riguardano la struttura della storia il gioco reale viene invece diviso in sessioni la sessione è il periodo di tempo in cui il tavolo resta riunito per giocare la maggior parte dei gruppi si trova una volta alla settimana e resta in sessione per 3-4 ore non esiste però alcun tipo di standard conosco personalmente gente che gioca più volte alla settimana ma per non più di un paio d'ora alla volta e gente che si ritrova una volta al mese dal mattino fino alla sera il master deve valutare sempre molto bene quanto tempo abbia per le sessioni in modo da definire la lunghezza degli archi narrativi sarebbe sempre meglio evitare di dividere quando si può gli archi narrativi minori sarebbe meglio che per esempio una quest durasse un numero fisso di sessioni e che ogni sessione avesse almeno una scena e quasi sempre meglio evitare di dividere le scene tra più sessioni o all'interno della stessa sessione fare il finale di un arco e l'inizio e l'arco successivo diciamo che per questo video è tutto probabilmente sarà stato molto interessante per i neofiti ma abbastanza noioso per i veterani ripetita juvento ripasso non fa mai male questi comunque sono i termini tecnici principali che verranno usati durante questa stagione e per evitare i dovermi ripetere ogni volta questi saranno i significati che gli darò quando gli userò questo è appunto il motivo per cui esistono i termini tecnici ovviamente fatemi sapere nell'area di discussione qui sotto se anche voi usate questi termini o ne usate altri o se ritenete che ci sia ancora qualcos'altro che deve essere definito in maniera specifica per migliorare la comprensione se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi altri video schiacciate sul tasto della campanella io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video ciao